Buonasera a tutti e bentornati su BetterVogenni e oggi vi voglio mostrare la recensione della card Peraga. Peraga è un garden center e lo trovate su Six Continent. Ci sono vari tagli da 25 da 50 se non erro anche da 100 euro e spesso viene data come sponsorizzata nelle offerte. Non è la prima volta che io ordino devo dire che sono gentilissimi e hanno un sacco di scelta nel sito. Vi invito a dare un'occhiata ma oggi vi voglio spiegare il perché io ordino spesso da Peraga. Allora, anzitutto hanno dei prodotti per gli animali molto buoni come per esempio la Trainer, la Monge, le scattolette della Parse sono tutti di ottima qualità, ecco che inquadro. Questa è carne bianca cotta al vapore, cioè sono tutte di ottima qualità. Per esempio questo per Umbreon, lui prende la Monge per esempio Senior perché lui ha già 10 anni ormai e anche la Trainer per gatti sterilizzati. Rigorosamente gusto salmone o pollo e raramente assaggia qualcos'altro ma lui ha un appetito molto difficile. Anche la lettiera è di ottima qualità dura un sacco di tempo, non puzza, quindi ve la consiglio. Un altro buon motivo è che su Peraga trovate dei prodotti per la casa davvero buoni. Io per esempio per fare ordine in casa ho comprato queste scatole vedete? Le ho montate perché mi sono arrivate così in realtà. Eccola, quindi da chiusa occupa pochissimo spazio dopodiché io l'ho montata. Penso che ci metterò i vestiti estivi e li metterò in alto nell'armadio in modo che rimangano in ordine. Sono plastificate e si chiudono con i bottoni automatici ecco. E c'è anche la finestrella. Poi, questa è un'altra cosa. E se voi andate a vedere poi gli accessori per la cucina, fra questi troverete i prodotti Tescoma. Tescoma è una marca assolutamente top e difatti crea anche accessori per i dolci e tutto quanto. In questo caso io ho preso un diffusore per l'olio. E' ottima se avete la frigitrice ad aria o se come me siete a dieta. Quindi riuscirete a mettere meno olio praticamente sulle insalate oppure appunto per la frigitrice ad aria riuscite a spruzzare l'olio dappertutto usando una piccola quantità. E' di acciaio quindi insomma è molto buono. Io ho preso questo ma potete trovare una varietà infinita. Sempre nel reparto diciamo cucina però un po' più in mangiareccio trovate un sacco di prodotti come questo. Questi sono biscotti artigianali al limone, senzolo di palma, hanno delle varie certificazioni, se non sbaglio questi sono biologici. Ok. La certificazione ecco qua bio. Agricoltura biologica. Ok. E niente questo è il codice a barre. Vedete gli ingredienti comunque sono... Ok sono tutti di... cioè sono prodotti di alta gamma insomma non sono prodotti comunque scadenti eh. Assolutamente. Ok. Hanno un ottimo profumo e io ho presi anche un'altra volta comunque ve lo assicuro. E adesso visto che stiamo... ci stiamo avvicinando al Natale trovate anche una varietà di pandori, panettoni diciamo molto particolari. soprattutto trovate i bundle della Gallup. Io ne ho preso uno in questo caso. E io ho preso questo al gusto praticamente latte uova. Cioè senza canditi, senza nulla. Paradiso si chiama. Burro e uova fresche. E questo costa attorno ai 15 euro. Mi sembra un prodotto artigianale. Guardate come si presenta. È bellissimo. Se dovete fare un presente o dovete andare magari a pranzo al cena da qualcuno. Fate un'ottima figura. Gli ingredienti li trovate dietro. Eccoli. Da 750 grammi. Scade il 31 maggio 2020. Quindi insomma avete parecchio per consumarlo. Penso che prenderà qualche altro gusto. Uno non si aspetta di trovare questi prodotti in un centro giardinaggio. qualcuno ha detto una volta che è un centro giardinaggio. Vi assicuro che i prodotti anche da mangiare sono ottimi. Ve lo assicuro davvero. Ecco qua. Guardate è bellissimo. E poi, poi, poi sì. Sempre linea biologica o comunque di alta gamma. Ho preso il sapone vegetale di Marsiglia. È proprio quello originale. E della Nuncas. E niente. È, in realtà, è perbucato. Penso che io, io personalmente, poi ognuno fa come vuole, lo userò per lavarmi le mani. Eccolo qua. Vegetale. Se voi vedete com'è fatto. Ok. Composizione chimica, 30% sapore. Ma, il resto cosa sarà? Non lo so. Vabbè. Lasciando perdere. Comunque, ottima. È di Marsiglia. E niente. Cosa vi devo dire? Volete tre buoni motivi per ordinare da Peraga? Allora, uno, la varietà. Due, viene sempre messa come sponsorizzata. E tre, ve la consiglio io. Per cui, al prossimo video e ciao! 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 Grazie.